Che compito difficile che mi ha affidato tua madre insegnarti quello che dovresti imparare a scuola Facendo questa tesi ho avuto modo di scoprire che il dialetto bersitesi ha una grammatica tutta sua da rispettare proprio come quella italiana se vuoi te la posso mostrare Prima o poi se ne vanno tutti Arriva il momento che noi ne troviamo sui come all'inizio Non dimenticare mai chi sei da dove vieni ciò che hai fatto e detto Ora portatemi voi nei nostri sentieri nei nostri ricordi Grazie per la visione